Usa palloni in una sola partita. Allora i palloni li trovate per terra, dovete aprire i palloni, in una volta potete aprirne fino a tre, lasciate poi andare un pallone, o sennò c'è qualcuno che vi spara giù. Comunque riaprite il prossimo pallone, quando avete aperto cinque palloni riceverete in omaggio un piccone.